Dobbiamo cominciare a fare un po' di economia in più, eh? Più di che stiamo facendo? Eh, che vuol dire? Significa che dobbiamo fare ancora più economia. Ma se il papà è immediato, non riesco l'escolto in Italia, ti copro! Non essere triste, mamma. Nonno Giuseppe mi ha insegnato tutto sulla paura. Mi ha detto che... La paura è la causa dei nostri pensieri negativi. Non abbassare lo sguardo davanti alla paura. Affrontala. Il problema principale per gli anziani è che già hanno paura di morire. E tu chieresti così? Com'è che chiama la televisione? Fake news. Fake news. 440 euro è molto! Ma ti rendi conto? E meno male che c'eri pure tu quando ho spiegato che non posso più aprire il ristorante. Ti chierai se ti vuoi. Se ci arriviamo. Il 4 maggio, donno. Ma tu ci pensi? Il 4 maggio farò il mio primo grande spettacolo. Antonio, il figlio di Nino. C'è un petit talentueux. Disse che i Vigil hanno fatto una multa al bambino palermitano che su internet le aveva spiegato il segreto per essere felice. Je veux vraiment rencontrer ce petit garçon. Penso a essere buono Nino. Un po' più il cerito che sei avuto. Non permettete a questa minaccia di coprire la vostra felicità. Se voi volete seguire l'amore, voi dovete avere la fortuna dell'amore. I garretti siciliani hanno avuto successo. Che va! Io non voglio aspettare di diventare felice. Io voglio essere felice. Scopo. E scrivi la più bella storia che si sia mai raccontata. Io non voglio aspettare di diventare felice. Io non voglio essere felice.